buongiorno oggi parliamo con cristiano corsini docente ordinario di pedagogia sperimentale all'università di roma 3 professore allora raccontaci un po quali sono le tue ultime come dire osservazioni su quello che sta capitando nel mondo della scuola a proposito della valutazione come al solito è sempre molto vivo molto acceso questo dibattito valutazione formativa valutazione con il vuoto numerico tu proprio in queste ore hai pubblicato nel tuo profilo facebook una nota molto curiosa molto interessante racconti che sei andato in una scuola e questi insegnanti ti hanno detto ma sa professore noi veramente è da un po che davvero facciamo valutazione valutazione formativa stiamo cercando di eliminare il vuoto stiamo lavorando ci troviamo bene così via e tu hai reagito dicendo ma dite davvero quindi ci avete presi davvero sul serio ma come mai ci avete presi sul serio cioè sei quasi stupito che ci siano insegnanti che ascoltano la voce dei pedagogisti e la tua in particolare allora ciao reginaldo no in realtà intanto non è la mia voce in particolare ma quando loro hanno detto anzi era un docente quando ha detto noi questa cosa questa intuizione l'abbiamo avuta grazie all'interlocuzione con alcuni pedagogisti non rientravo tra quei pedagogisti perché ovviamente ci sono dei pedagogisti più bravi di me e si sono rivolti a loro quindi però lo stupore c'era nel senso che una delle diciamo costanti che attraversa un po il rapporto tra ricerca educativa e prassi consolidata all'interno delle scuole e anche delle università che poi un giorno all'altro parleremo anche di didattica dentro l'università forse e anche di valutazione è questa discratia che c'è tra le cose che la ricerca empirica scopre all'interno delle scuole e le prassi più diffuse cioè noi che la valutazione descrittiva preferibilmente senza voti quindi senza elementi sintetici e ordinali quindi intendo per senza voti non solo il senza il 6 ma anche senza il sufficiente o senza la c o senza la le tre stelle o le quattro come vi pare a voi cioè una valutazione che si affidi in itinere parlo della valutazione in itinere non quella che poi va sulla scheda ma quella che facciamo durante l'anno e durante la routine anche in università chiaramente questa valutazione qui funziona molto meglio di altri tipi di valutazione per molti motivi ma questa è una conoscenza acquisita quando dico che funziona meglio dico che generalmente funziona meglio ovviamente la ricerca in campo educativo come ogni ambito della ricerca scientifica è di natura probabilistica quindi non è che uno trova la ricetta e poi la spalma su tutti i contesti come se fosse una variabile indipendente che funziona ovunque ok e insomma c'è un trattamento bisogna saper agire rispetto a questo trattamento ci sono contesti diversi quindi però spannometricamente nel 95 per cento dei casi funziona meglio ecco questo lo possiamo dire ma lo sappiamo da decenni e sappiamo da decenni in campo valutativo anche altre cose e penso a inside black box che è un testo che compare nella seconda metà degli anni 90 di black e william e loro scrivono ma è incredibile come noi sappiamo tante cose sulla valutazione formativa e però ormai sono consolidate no sono conoscenze consolidate dappertutto tranne che nella scuola come mai e allora quando poi invece uno va in una scuola e trova insegnanti che dicono no no effettivamente noi la facciamo e funziona e raccontano descrivono questo ecco lì per lì uno diceva ma questi ci hanno preso sul serio cioè ci hanno nel senso non me ma la letteratura pedagogica ed è un aspetto un po paradossale perché in realtà ecco tendenzialmente si dimentica che non è che è un'elucubrazione dei pedagogisti queste indicazioni questi suggerimenti provengono dalle scuole cioè provengono da insegnanti insegnanti di ogni ordine grado che avendo avuto loro sì delle genuine intuizioni dentro le prassi dentro i contesti nelle prassi hanno detto che ma qui forse piuttosto che mettergli un 5 gli racconto dov'è che può migliorare perché può migliorare quali cose invece ha fatto bene e poi hanno scoperto che abbassava l'ansia da prestazione che migliorava il clima e che 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 l'alunna o l'alunno erano più interessati a quel che veniva svolto e che si abbassava il clima competitivo all'interno anche della classe che si lavorava meglio e che quelli facevano due ore di storia o di fisica o di quel che volete voi senza neanche accorgersene perché lavoravano assieme. Senti Cristiano hai detto una cosa interessante poc'anzi cioè hai detto ma il professore che a un certo punto si chiede dice ma anzi si dice ma no anziché mettergli il 5 magari io incomincio a dirgli in cosa ha sbagliato ma anche in cosa ha fatto bene. Da qualche parte ultimamente ho letto di una idea abbastanza curiosa abbastanza interessante che dice ma anziché usare soltanto la biro blu e la biro rossa per segnare i voti usiamo anche il colore verde la biro verde per indicare le cose fatte bene che cosa ne pensi? Ma anche questa è una scelta sensata che ha il conforto di qualche decennio di evidenze empiriche dalle prime indagini strutturate sull'efficacia scolastica penso a quelle degli anni 70 noi abbiamo imparato che il feedback informativo il feedback che descrive i punti di forza e di debolezza e che però è aperto anche al futuro e quindi da dei consigli e che parte anche dai punti di forza è quello che funziona meglio e erano cose che aveva già intuito per esempio John Dewey però insomma anche qui è una scelta fondata sensata e che ha il conforto della prassi e della teoria quindi mi sento di poter dire che nel 90 95 99 per cento dei casi comporterà degli effetti positivi ecco così funziona la nostra ricerca anche di sì c'è un'altra questione anche qui che mi piace approfondire con te allora molto spesso si ha un po' la tendenza a pensare che il no al voto sia un po' come dire una scelta di carattere usiamo questo termine politico no cioè togliamo il voto perché non dobbiamo selezionare dobbiamo dare a tutti le stesse opportunità non dobbiamo appunto tagliare le gambe a chi è già in difficoltà e quindi sono un po' una scelta politica diciamo una cosa in stile Don Milani ecco dobbiamo essere un po' buoni tu invece hai detto una cosa molto interessante hai detto no il no al voto viene fuori dalla evidenza empirica quindi è una scelta non politica ma una scelta scientifica ecco forse questo è importante da sottolineare è giusto? Sì allora permesso che io ho l'impressione che Don Milani non fosse buono manco per niente ma piuttosto costo come insegnante però sì è così nel senso che è anche una scelta ed è soprattutto una scelta scientifica poi chiaramente anche una scelta politica perché d'altra parte scegliere di rimuovere gli ostacoli alla piena partecipazione alla vita economico culturale sociale del paese purtroppo è una scelta politica dico purtroppo perché è chiaro che non tutti concordano quindi se io faccio questa scelta come insegnante perché non dimentichiamo che l'articolo 3 precede l'articolo 34 non casualmente non credo che li abbiano messi in ordine alfabetico gli articoli se io come insegnante mi riconosco nella nostra carta costituzionale cercherò di essere più efficace possibile cioè le due cose secondo me o non vanno insieme o non vanno d'accordo o non procedono assieme o procedono assieme e quando non procedono assieme non procedono per nulla il piano tipico e quello politico si 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 rafforzano o si indeboliscono a vicenda quindi è una scelta che è anche fondata scientificamente ma che risponde a alle esigenze più profonde del nostro ruolo senti cristiano una questione molto importante che molto spesso gli insegnanti contrari alla valutazione formativa e descrittiva e invece favorevoli al voto sostengono ma insomma tu cristiano sai meglio di me perché il tuo lavoro ci sono decine e decine di ricerche che parlano delle distorsioni valutative mi pare che le prime ricerche addirittura risalgono se non sbaglio forse quasi ad un secolo fa partiamo con le prime ricerche di Pierron credo siano proprio degli anni 20 degli anni 30 se non ricordo male e quindi le distorsioni valutative ce ne sono tante e sono anche molto pesanti alcune allora forse tutto sommato distorsione per distorsione tanto vale usare il voto che almeno è chiaro cioè tutti capiamo che cosa vuol dire cioè tutti sappiamo che sei vuol dire che sei andato bene ma potresti fare meglio e che 9 o 10 sei andato benissimo e meglio di così non è possibile non lo so è così o c'è una distorsione in quello che io ho detto ma in realtà appunto come dici te Pierron quasi cento anni fa metteva in evidenza proprio il carattere iniquo e del tutto inaffidabile del voto cioè lui se pensiamo alle indagini sul baccaloreat metteva in evidenza come diversi commissari dell'esame di stato francese dessero dei voti completamente differenti 8 7 10 punti di differenza 13 punti di differenza in una scala da in una scala 20 ha compiti di matematica filosofia francese eccetera eccetera e quindi in realtà il voto non è affatto più preciso in primo luogo secondo è più chiaro ma insomma più chiaro in realtà noi rispetto a un 7 sappiamo soltanto che è più di 6 ed è meno di 8 poi il resto se lo vogliamo esprimere ci tocca esprimerlo descrivendo elementi della prestazione e accordando questi elementi a livelli di apprendimento che noi abbiamo positivamente in testa cioè un 8 significa questa cosa qui ma è proprio un apprendimento allora e allora a quel punto se c'è tutta questa chiarezza se questa chiarezza l'abbiamo in testa possiamo anche fare a meno del voto e lasciare soltanto la descrizione il problema è che ricorrendo al voto noi scimmiottiamo la chiarezza che hanno le scienze esatte ma non abbiamo nulla a che vedere con quel tipo di campo delle faccende umane e in questo scimmiottamento poi ci perdiamo tutto il resto ed è per quello che il voto paradossalmente è molto 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 meno impreciso e informativo e chiaro di una buona valutazione descrittiva 15 anni fa un noto ministro che non nomino aveva detto ma insomma scusate tutto si misura si misurano si misura persino l'intensità dei terremoti quindi perché scandalizzarsi del fatto che si misurino gli apprendimenti che cosa c'è di male nel misurare gli apprendimenti si misurano i terremoti si misura la temperatura e quindi che dove sta il problema è tutto questo è un assist nel senso che quel ministro lì fece un famoso paragone dicendo ma in fondo tutto viene espresso tramite numeri e senza lui scrisse frasi con finalità descrittive e disse per esempio il terremoto lo possiamo misurare con la scala richter o con la mercalli incorrendo in un errore come dire di decimo grado non so come definirlo a seconda della scala è perché in realtà la scala mercalli usa frasi con finalità descrittive e perché usa frasi con finalità descrittive perché sostanzialmente serve per descrivere una una situazione e stabilire i primi soccorsi adesso sto banalizzando mi scuseranno ok è però questo è interessante se noi stiamo misurando per fare qualcosa per intervenire allora è necessario descrivere dopo di che ogni scala anche quelle più apparentemente esclusivamente numeriche è frutto di scelte ben precise che sono alla base della cosiddetta operazionalizzazione del concetto astratto dalla temperatura fino all'intensità di un terremoto in realtà noi abbiamo questi concetti e decidiamo come misurarli perché misurarli e facciamo delle scelte ok quindi anche lì andare a descrivere quelle scelte se noi vogliamo realmente agire operare sarà comunque necessario diciamo il campo gli apprendimenti sono questioni è un scusate solo sono concetti astratti e allora noi li leghiamo a evidenze empiriche descrivendo e facendo delle scelte se queste descrizioni queste scelte poi non le restituiamo noi stiamo misurando non per migliorare l'apprendimento ma per altri motivi per esempio per stabilire una gerarchia all'interno della nostra classe e a volte non ce ne rendiamo conto che è quello il motivo senti cristiano mettiamola in questi termini uno studente che si presenta al tuo esame di pedagogia e che racconta le stesse cose che raccontava 15 anni fa quel ministro il tuo esame lo supera o no ma probabilmente non lo supera a meno che diciamo probabilmente non lo supera perché questo è un aspetto importante cioè la la teoria della misurazione e rapporto tra misurazione e valutazione sono questioni troppo importanti e che io vigilo affinché siano apprese ok l'affetto per me fondamentale non è che lo subi o meno ma che io dia lui gli strumenti gli strumenti per superarlo la prossima volta cioè quindi è un ci vediamo al prossimo appello guardi che qui trova scritte queste cose guardi che queste cose le hanno lette un po troppo di corsa perché in realtà ha dimenticato di mettere in collegamento questi due queste due questi due concetti per esempio ecco quindi per me questa per me questa è più importante del voto grazie a cristiano corsini docente di pedagogia sperimentale presso l'università di roma 3 e quindi alla prossima al prossimo incontro la prossima chiacchierata perché parlare con il professore corsini è sempre una bella esperienza perché si imparano sempre cose nuove cose interessanti quindi ci rivedremo quanto prima grazie professore grazie